Bel taglio, grazie. Allora, chiaro, un grande bacio. Grazie mille. So che stai organizzando questo workshop. Ah, te ne sei accorto? Da chi l'hai capito? Sei una mascherina tu. Sarò invitato, spero, a questa grande manifestazione. Sei strainvitatissimo, assolutamente. Mi farebbe molto piacere sapere quello che stai organizzando. Tu il sabato sei aperto, però. No, io il sabato sono libero. Sei libero? Ero libero esclusivamente per questo workshop. Ti aspetto allora. Ciao, sì. Vai, vai. Grazie. Ciao. Ragazzi, mi chiedevate allora se si può fare networking. Questa è una bella domanda, perché me lo domandano tutti. Robin, ma si farà networking? Potrò fare amicizia? Potrò conoscere nuove persone? Potrò interlacciare nuovi rapporti? È giusto, è giusto, perché uno va a questi eventi, poi alla fine, tante volte, perché vuole conoscere altre persone, perché vuole cercare di imparare dagli altri, conoscendo persone diverse, con esperienze e conoscenze diverse. E quindi ho pensato di improntare tutto il workshop a questa cosa. Quindi, sia il posto che ho scelto, che è un posto che ha sempre uno spazio al di fuori della zona, diciamo, di studio, dove ci si può muovere, dove si può chiacchierare, si può andare a fumare una sigaretta, ah, bello, come sai, eh, ho saputo che stai a fastosiderlo. Quindi, uno si può incontrare con le altre persone e chiacchierare comodamente, ma non solo con gli altri, anche con gli ospiti speciali, perché io questi esperti, diciamo, non è che li tratto come tali, io li mischio, li metto insieme a tutti quanti. Quindi, durante tutto l'evento, ci sono tantissime possibilità, inclusa una proprio programmata all'interno delle sessioni, di poter conoscere gli altri. Perché è programmata dentro le sessioni? Perché per ognuna delle quattro sessioni principali, ho deciso di creare anche un momento nel quale si lavora in squadra. E ognuna delle quattro sessioni avrei una squadra diversa, con la quale collaborare, fatta di altre persone come te, con esperienze diverse, ma puntate a cercare di raggiungere un obiettivo utile per tutti quanti e anche gli esperti saranno a tua disposizione per cercare di fornire loro idee, suggerimenti, eccetera. Quindi, networking a tutto spiano!